L'Italia va verso la riapertura dei confini regionali. Liberi tutti, in teoria. Il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ieri ha scartato l'ipotesi di un passaporto regionale o di una distinzione dei cittadini in base alla regione di provenienza. La data dovrebbe essere il 3 giugno, ma usare il condizionale è d'obbligo perché, come anticipato oggi dal Corriere della Sera, l'apertura dei confini potrebbe slittare di una settimana. Domani se ne discuterà nella conferenza tra governo e presidenti delle regioni. A premere sul pedale del freno sono le regioni del sud e delle isole che temono un contagio dal nord, in particolare dalla Lombardia, dove ancora oggi è concentrato il 70% dei nuovi contagi. I governatori meridionali chiedono un attento controllo delle partenze, cercando quindi di isolare subito eventuali focolai. Abbiamo superato la curva di picco dell'infezione, ha detto oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Bursaferro, durante l'audizione in Commissione Bilancio alla Camera. Siamo nella parte di discesa e in una fase di controllo della situazione, ma si richiede un'attenzione particolare nell'identificare e isolare precocemente i casi sospetti, con sistemi di monitoraggio e capacità di risposta sanitaria a eventuali focolai.